C'è Maretta nella maggioranza, per meglio dire, in soddisfazione. Nel giorno dell'ultimo Consiglio Comunale c'era un viavai di consiglieri nella stanza del sindaco Franco Landella, impegnato in colloqui bilaterali con i suoi che mostrano segni di insofferenza. Avvistato in uscita uno tra tutti, Raimond Ursitti, conservatori riformisti, che che se ne dica poi, il risultato delle elezioni provinciali aveva la pretesa di ricalibrare gli equilibri politici e così ha dato adito ai vincitori di reclamare maggiore considerazione una volta pesati, sebbene il perimetro fosse ristretto. In aula continua il balletto dei riposizionamenti, gli ultimi in ordine di tempo, Antonio Annecchino, che fa resuscitare destinazione comune, confluita prima in civica per la Capitamata, e Giuseppe Pertosa, che ha lasciato Forza Italia ed è passato a NCD. Giuseppe Mainiero, fratelli d'Italia, spina nel fianco della maggioranza, ripete da due anni che manca la bussola. Quando l'orizzonte politico è quello del tirare a campare, i mal di pancia sono all'ordine del giorno. Il problema è che non c'è un'agenda politica e quindi sostanzialmente chi può far richieste gestionali, ma niente di più. L'oggetto del contendere adesso qual è? Ma l'oggetto del contendere a mio avviso saranno solo questioni di carattere gestionale, perché non ho mai visto questa maggioranza, che non è politica, io la definisco la maggioranza di Landella, discutere, argomentare, criticare, porre degli emendamenti su tutto ciò che attiene le scelte strategiche che questa amministrazione non fa. Lo scontento alleggia anche tra gli uomini legati a doppio filo con la Giunta. I temi bene o male sono sempre gli stessi, uguale l'agenda delle priorità occorre una registrata per Bruno Longo, consigliere comunale delle destre, sull'AMIU per esempio, vorrebbe accorciare le distanze di quella che definisce una mega azienda che non tiene conto delle particolarità. Quali correttivi vanno fatti? Beh, ci sono un sacco di argomenti che sono stati lasciati un po' lì a pascere. Abbiamo la questione di ATAF, laddove non sappiamo ancora quale possa essere la funzione strategica di ATAF all'interno di un processo europeo che vede la messa al bando del servizio del trasporto pubblico locale. Ed oggi, almeno per ciò che riguarda il sottoscritto, è molto scontento di come ATAF sta conducendo le situazioni in città. Abbiamo il problema di AMIU, ad esempio, dove c'è un servizio che ad essere buoni e ad essere di maggioranza io potrei definire sufficiente, ma lo dovremmo definire assolutamente scadente. Civica per la Capitamata aveva alzato la voce subito dopo le provinciali, ma si dichiara animata sempre dallo stesso spirito costruttivo. Certo, Giuseppe Splendido, da candidato indipendente nella lista di Forza Italia, rivendica il risultato personale, ma il vicino di banco Antonio Vigiano riporta la discussione sui problemi della città. È chiaro che si andranno a valutare dopo due anni e mezzo di attività amministrativa se ci sono delle falle all'interno dell'esecutivo e penso che ogni partito e soprattutto il sindaco dovrebbe cercare di porre rimedio perché chiaramente se dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare nell'interesse della gente, non certamente nell'interesse nostro. Delle falle nell'esecutivo ci sono? Secondo me sì, ci sono dei settori falle nel senso che ci sono dei settori che dovrebbero dare di più, ci sono dei settori che dovrebbero iniziare a dare risposte di programmazione perché troppe volte veniamo coinvolti nell'emergenza ma a due anni e mezzo di distanza dall'inizio di questa consigliatura dovremmo iniziare a programmare e capire quale futuro noi immaginiamo per Foggia.